Come Comitati Cittadini noi siamo in trincea, diciamo così, da dieci anni stiamo conducendo questa battaglia civile e democratica di opposizione al progetto SNAM e le criticità fondamentali che noi abbiamo sempre enunciato come motivazione di opposizione a questo progetto riguardano l'elevata sismicità del territorio sul quale dovrebbe insistere sia l'impianto di compressione che è la centrale che è stata approvata con la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017 che sia anche il metanodotto che da Sulmona poi dovrebbe proseguire il suo percorso sino a Foligno e poi raggiungere anche Minervio. C'è anche da considerare, sempre per quanto riguarda l'impianto di emissioni di compressione, le emissioni di questa centrale che in una valle chiusa, 164 tonnellate tra monossido di carbonio e ossidi di azoto, rimarrebbero imprigionati all'interno della valle in quanto la nostra valle, essendo una valle chiusa con il fenomeno dell'inversione termica, non ha dispersione di questi inquinanti e quindi tutto questo provocherebbe anche un grave rischio sanitario per quanto riguarda la salute dei cittadini. Siamo qui anche per parlare dell'assemblea regionale che si terrà a Sulmona il 3 febbraio dove cerchiamo di riunire tutte le realtà che riguardano non solo la SNAM ma tutte le realtà delle app del gas. Noi cittadini, soprattutto cittadini, quindi è un movimento che parte dal basso, i comuni della valle Peligna, la provincia e la regione stiamo ribadendo fortemente il nostro no alla centrale perché è nociva, non porta lavoro, danneggia il territorio e soprattutto, cosa che ci tengo io a ribadire, visto che comunque l'Europa sta andando verso le rinnovabili è un investimento che morirà a breve perché anche l'Italia è giusto che vada verso le rinnovabili quindi non ha nulla di positivo.